Da piccola non ho mai sognato di diventare una principessa. Mi sono allenata per anni con un obiettivo molto preciso in mente, andare a Rio 2016. Un sogno straordinario che non si è mai realizzato. Ho sbagliato la gara più importante e non sono stata convocata in nazionale. Poi ho capito che dovevo reagire e dovevo dimostrare a tutti chi era Simona. Sono Simona Quadarella e sono un atleta del Toyota Team. Scopri la mia e le altre storie impossibili e vinci le Olimpiadi di Tokyo. Grazie a tutti.